Sara scrive in chat che non ha letto il libro ma partecipa come uditrice e io direi di iniziare il club sulla vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante. L'ho proposto io per chi non c'era la volta scorsa e l'ho proposto come dicevo poco fa semplicemente perché era un po' di tempo che sceglievamo dei titoli un po' tra virgolette pesanti, un po' impegnativi da discutere quindi volevo qualcosa di più mainstream magari un po' più leggero Elena Ferrante sicuramente un nome che tutti abbiamo sentito soprattutto per il grandissimo successo della quadrilogia dell'amica geniale l'adattamento televisivo tra l'altro leggevo che Netflix ha iniziato la produzione di una di una serie ispirata alla vita bugiata degli adulti e quindi insomma ha vinto a mani basse il sondaggio io ricordo per chi sta partecipando che siamo chiamati tutti chiamate a questo punto dico chiamate perché siamo tutte giovani donne siamo tutte chiamate a proporre un titolo per il prossimo incontro perché fai così la no giovani donne grazie siamo tutte giovani donne e quindi siamo tutte chiamate a proporre un titolo per il prossimo incontro vi invito a scriverlo magari mano mano che vi viene in mente in chat così poi ho qualcosa di testuale anche se io comunque prendo appunti allora riassumo brevemente la trama che ho un po la parola a voi è la storia di giovanna una ragazzina tredicenne che vive in una famiglia alto borghese sui genitori sono andrea e nella andrea è un professore nella è un insegnante si dedica anche alla correzione di bozze di romanzi rosa vive nell'agio nella tranquillità nella spensieratezza fin quando viene a conoscenza di una figura un po avvolta nel mistero che fa parte della sua famiglia ed è quella della zia vittoria che la sorella di suo padre una zia di cui non si parla è una specie di tabù in famiglia solo che lei viene incuriosita da questa zia perché suo padre un giorno durante una discussione si lascia si lascia sfuggire che giovanna sta somiglianza iniziando a somigliare sempre di più a questa zia vittoria fisicamente prima di tutto e giovanna la prende come un'offesa perché di questa zia vittoria in famiglia si era sempre parlato di una donna poco attraente sguaiata volgare un personaggio assolutamente non positivo appunto da tenere ai margini della famiglia viene incuriosita dalla figura di questa zia vittoria decide di mettersi in contatto con lei e inizia tra la nipote e la zia un rapporto abbastanza ambiguo ambivalente diciamo che in un certo qual modo la zia trascina la nipote in quello che il suo giro di conoscenze amicizie in una in un quartiere di napoli che non è considerato diciamo un quartiere è considerato un quartiere popolare il pascone mentre la famiglia di giovanna viene dal vomero che è considerato invece un quartiere appunto borghese alto borghese i genitori non contrastano assolutamente la gel la scelta della figlia e quindi giovanna entra in contatto con tutta una serie di personaggi che fanno parte della vita di vittoria entreranno poi a far parte della sua vita la vita di giovanna fino ad allora era fondamentalmente occupata dai genitori dalle due amiche e sorelle tra di loro ida e angela che sono le figlie di costanza e mariano una coppia amica di famiglia dei genitori di giovanna che un po più avanti nel libro io voglio essere certa che l'abbiate letto fino alla fine ma anche se questa cosa sì sì perché non voglio fare spoiler ma gli spoiler nel club del libro sono d'obbligo ci sarà una sorta di scambio di coppia a un certo punto le due coppie diciamo che si scambieranno scopriremo infatti che andrea il padre di giovanna ha una relazione da ben 15 anni con costanza che la madre di ida e angela e anche nella e mariano ha una relazione più o meno intermittente che va avanti da un tempo non meglio precisato quindi giovanna entra in contatto con quelle che sono le amicizie le conoscenze della zia vittoria in particolare con margherita margherita i suoi figli margherita chi è e la moglie vedova ormai di enzo che era stato l'amante di vittoria quindi vittoria nel momento in cui enzo viene a mancare interrompe gioco forza la relazione con lui ma già durante questa relazione entra a far parte della famiglia della moglie di del suo amante di enzo che la accoglie come se fosse una di famiglia e vittoria inizia un po a dettare legge in questa famiglia sembra avere potere decisionare anche su quelle che sono le vite dei tre figli di enzo e margherita che sono tonino che per un breve periodo di tempo avrà anche una relazione con angela l'amica di giovanna giuliana che la figlia considerata più bella la più intelligente la migliore dei tre che ha una storia d'amore con roberto un un giovane alcuni anni più grandi di lei e lui a venticinque anni più o meno che vive a milano è laureato insegna all'università e corrado in più orbita nella vita di di giovanna un tale rosario che è un amico di di corrado che è il figlio di un avvocato molto importante e diciamo un po strisciando viene anche fatto capire che appartiene ad una famiglia malavitosa sostanzialmente una famiglia molto pericolosa ma giovanna si sentirà in qualche modo anche attratta da questo personaggio dopo aver avuto una lunga infatuazione per per roberto più o meno insomma assolutamente platonica non più o meno quindi questa diciamo questi sono gli entri e c'è questa è la trama io vorrei sapere se c'è qualcuno di voi a cui questo libro non è piaciuto Laura perché e sei perfettamente d'accordo e anche Lupezia lo so perché abbiamo ampiamente parlato oggi allora Laura perché non ti è piaciuto allora premetto che io non ho letto niente dell'afferrante il primo libro per me quindi sono abbastanza come dire pulita da influenze ok e allora si fa leggere si fa leggere perché comunque si fa leggere abbastanza scorrevole e anche simpatico perché comunque siccome è una specie di telenovela alla fine tu cominci ad avere ad avere a cuore la sorte di questo braccialetto che va girando ecco sì ho messo il dettaglio del braccialetto e inizia alla fine scopre che è della mamma della moglie di Enzo quindi poi tutti vanno tutti come dire accampano diritti di eredità su questo braccialetto quando in realtà era della nonna di Giuliana quindi eh ecco lo ha avuto per una per lungo per lungo tempo costanza eh perché è regalato dal padre di 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 Giovanna eh quindi c'ha questa questa eh ha più vita il braccialetto no rispetto a tutti gli altri quindi comunque ti prende eh ci sono rimasta un po' sul finale cioè non esiste un finale vero? Sì. O è una mia impressione? Sì. tu guardi dici vabbè mo c'è che succede non e poi vabbè forse è lo stile non lo so non 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 premesso che io avevo appena finito di leggere il sentiero delle babucce gialle poi passare da quello a Elena Ferrante è stato pesante. Traumatico. Sì perché quell'altro invece per quanto sia invece molto eh fluido anzi anzi forse è ancora più semplice come lettura ma come tematiche o è perché io non conoscevo bene eh 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 o non conoscevo alcuni particolari di Teran dello Schalzo e tutta una serie di cose mi ha affascinato molto di più eh rispetto a Elena Ferrante è un è un libro che si fa leggere se mi chiedessi eh eh se lo consiglierei mi mi cioè della serie se proprio non c'hai nient'altro da leggere lo leggi però ecco non è una cosa che proprio mi ha fatto impazzire ecco che io poi eh perché non l'avevo mai letto mi era sfuggito quando ero ragazzina sostiene Pereira sì che io sono stata in lutto un giorno perché era finito il libro sì è vero è vero è sì è da brividi proprio il finale di sostiene Pereira sì è fantastico secondo me perché all'inizio ti a me io ovviamente esprimo il mio giudizio all'inizio ti mi infastidiva la pacatezza del protagonista no di sostiene Pereira no e dice ma cacchio vuoi reagire vuoi reagire invece poi l'exploit finale è meraviglioso per cui eh quello mi è piaciuto tanto ho fatto un po' fatica con eh con Virginia Wolf però poi dopo un terzo del libro sono sì ma perché quello già è un saggio quindi è già un tipo di lettura non posso dire che sia che sia stato bruttissimo per carità di Dio però non 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 lo consiglierei proprio come lettura importante ecco Lucrezia invece a te riguardo il la vita bugiana degli adulti di cui stiamo parlando di quello sì intanto non me l'ho perso con sostiene Pereira allora allora il finale per me è stato estremamente deludente cioè dopo tutto questo macello che è durato diverse pagine diversi anni perché in realtà attraversiamo diversi anni credo in tre anni della vita di questa ragazzina e quindi diventa maggiorenne inizia a quattordici quindici e diventa maggiorenne no in realtà si conclude con lei sedicenne perché lei va a Milano quando va a Milano ad accompagnare Costanza compie sedici anni lì e poi i fatti immediatamente successivi sono di pochissimi mesi dopo la fine dell'estate durante l'estate quindi sì dai tredici ai sedici anni sì quindi insomma c'è questo finale deludente ma perché lei è un adolescente che potrebbe avere mille possibilità crescendo in una casa con un padre intellettuale genitori insegnanti comunque diciamo con una vitalità culturale culturale effettivamente che si capisce comunque circolava in casa sua però poi si perde per una questione punto estetica perché la somiglianza con la zia Vittoria inizia proprio dal fatto che sta facendo la faccia della zia Vittoria e da lì il suo carattere è inesistente non ha una personalità sua e come la dipingono gli altri in qualche modo come la dipingeva il padre come la dipinge la madre come la dipingevano le amiche ma non è lì non si vede mai effettivamente dove sta chi è questa giovanna anche il fatto stesso che lascia che le cambino il nome nella casa della zia Vittoria che inizia a chiamarla Giannina cioè non è più cioè non è come se le tolgono anche in quel caso la personalità di giovanna la figlia di andrea e di costanta come si chiama lei e poi diciamo e lì invece diventa la nipote di Vittoria che ha un'altra personalità anche perché poi lei finge cioè la vita bugiata degli adulti non lo so può darsi che le sentimentano ma anche lei non scherza da questo punto di vista cioè ha un'esistenza abbastanza strana e poi c'è questa storia di questo benedettissimo braccialetto che forse è il caso di buttarlo nel Vesuvio tipo Montefatto perché secondo me porta sfida cioè un braccialetto che praticamente viene preso il braccialetto di Giorgi ve lo ricordate il cartone animato questo braccialetto è storto alla sciocera di Enzo per darlo alla madre di Vittoria che poi lo dà lei che poi se lo prende Andrea che lo dà all'amante che poi madonna mia basta insopportabile questa cosa però sì lei comunque scrive in maniera abbastanza scorrevole quindi devo dire che io ho letto le prime 150 pagine in pochissimo tempo questo è il vantaggio di dei libri come possiamo dire mainstream di quelli proprio di facile lettura però manca proprio di profondità dei personaggi tutti quanti sono accennati ma a parte Vittoria che è da rinchiudere gli altri sono un po' strani cioè manca qualcosa manca proprio una profondità dei personaggi in molti casi non lo so cioè penso a Margherita cioè ti metti l'amante in casa cioè ma stai fuori in testa ma soprattutto perché comincia a dettare leggi a tutti perché secondo quale criterio in quella famiglia nel senso non può dire vabbè ma Vittoria magari ci ha aiutati economicamente ci aiuta in qualche modo no Vittoria è semplicemente una un dittatore e una scheggia impazzita una folle che andrebbe rinchiusa in manicomio e che decide per tutti senza motivo c'è anche sì anche in chiesa la conosco messaggiate dicono vabbè mola ce la stare a quella che sta la scena sua cioè ma non è normale questo fatto poi un altro personaggio strano è Roberto brava che non so quadrarlo nel senso che vabbè è quello intelligente che ha studiato riesce ad andarsene da quel quartiere va bene ma facendo cosa il filosofo del cavolo cioè non riesco a capire la sua funzione in tutto ciò qual è poi perché Giuliana ne sta dietro e tutti lo trattano con i guanti per una questione di status perché è quello laureato e vive a Milano non 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 mi è chiaro poi avrei voluto tanto capire perché Giovanna si innamora durante questo sermone in chiesa cioè facile leggere un pezzo di questo sermone cioè facci capire che di cosa ha parlato perché poi dice io non ricordo bene come ti faccio a capire no perché lei ha continuamente allora io l'ho trovato estremamente mediocre come romanzo ho trovato mediocre la scrittura perché chiaramente una scrittura molto commerciale è un libro che è stato scritto per essere venduto voi sull'onda del successo dell'amica geniale voi perché Elena Ferrante ormai si è fatta un nome non dimentichiamo che Elena Ferrante è uno degli scrittori più venduti negli Stati Uniti e noi sappiamo bene che gli statunitensi non sono esattamente delle aquile e non hanno esattamente una preparazione culturale invidiabile quindi basta che qualcosa arrivi dall'Italia loro se la leggono e se la bevono quindi è chiaro che questo è un libro che è fatto per essere letto non voglio essere sessista ma dal parrucchiere o sotto l'ombrellone ma né più né meno perché non ha una profondità di scrittura non ha uno stile proprio sì lei utilizza queste scurrilità verbali questo napoletano poi in realtà lei non scrive nemmeno in napoletano cioè non è come dire Camilleri scrive in siciliano lei ti fa capire che il personaggio sta parlando in napoletano perché è costretta a dirtelo ma in realtà non lo fa parlare in napoletano quindi magari tu nella tua testa a meno che non sia di Bergamo ti immagini la cadenza napoletana o se hai visto eh i De Filippo recitare ti immagini la cadenza napoletana quindi non ha nemmeno uno stile peculiare i personaggi come diceva Lucrezia non sono assolutamente approfonditi eh lo stesso racconto dell'adolescenza di Giovanna è patetico perché racconta eh di un adolescente assolutamente stereotipizzata eh l'adolescente che a un certo punto va in crisi che ha le prime turbe sessuali eh che decide di vestirsi da d'archettona che decide di fare questa ribellione nei confronti dei genitori e non studiare più e e stop nel momento in cui Ida l'amica eh di eh viene bocciata anche lei e va in crisi anche lei ha lo stesso tipo di crisi adolescenziale che non viene approfondita perché arriva alla fine del romanzo però è identica e precisa cioè sembra che lei non sia in grado di descrivere gli adolescenti in una maniera realistica l'ambientazione storica è assolutamente inesistente potrebbe essere un romanzo ambientato negli anni ottanta come lo è solo io so che è ambientato negli anni anni di Giovanna e credo che lei a un certo punto dica più o meno in che anno ci troviamo ma potrebbe essere ambientato negli anni trenta negli anni cinquanta negli anni duemila come negli anni ottanta scusami se ti interrompo io per tutto il romanzo vedi questo particolare non l'ho notato all'inizio del compleanno dove danno un'indicazione sull'anno ho fatto come dire delle considerazioni sui presidi che loro hanno un po come mi diceva Lucrezia oggi ehm le macchine il pullman determinate situazioni il telefono in casa che già negli anni ottanta lo erano tutti capito non il port neanche quello senza fili in casa c'è proprio il telefono sì sì telefono fisso eh con la rotellina no io quando mi sono immaginata eh ma anche eh la minigonna eh cioè io per esempio non la mi era venuto di non circoscriverlo negli anni ottanta bensì negli anni settanta più negli anni settanta pensavo fosse eh descritto poi volevo aggiungere un'altra cosa un'altra ehm adesso non voglio chiamarla banalità perché non non è che voglio essere ipercritica per carità di Dio però io voglio essere ipercritica vabbè quest'altra cosa ho notato ma sicura di Roberto che all'inizio come diceva eh eh la ragazza prima di cui non ricordo il nome eh che all'inizio tu dici mo è arrivato no il personaggio che salva eh caprecavoli cioè il libro e alla fine almeno per quello che mi riguarda è solo banalmente la figura del padre esatto i suoi sentimenti la sua ehm cotta deriva dal fatto che nella figura di Roberto rivede il padre che dal quale lei alla fine si sente rifiutata un banalissimo complesso di elettra un bene un banalissimo complesso di elettra ma descritto in maniera pedestre la fine della giostra tu dici vabbè ma sto Roberto a che mi inseris? Eh no vabbè era la trasposizione tant'è vero che il padre quando scopre che lei stava in qualche modo con Roberto era eh talmente lo stima eh che incentiva anche la eh il continuare il rapporto con questo con questo Roberto quindi lei ancora di più inconsciamente probabilmente eh voglio dire non è normale che si rigira e riprende il treno e riva a Milano per andare a recuperare il braccialetto poi non si vabbè poi lei ha vabbè che dice che in quel caso la madre le aveva dato i soldi per il compleanno ma ovviamente non è che va con il braccialetto però comunque eh voglio dire non è non era cosa semplice sono d'accordo su quello che dici tu fatto della sua di questa adolescenza un po' sì banale quasi sì e poi è un'altra cosa che sinceramente ho trovato molto appiattita e poi vi lascio la parola eh perché la relazione tra Andrea e eh Costanza è un po' più strutturata mentre quella di Mariano e di Nella è una relazione di ego cioè esatto e quindi consoliamoci eh anche questo molto molto superficiale no io ho trovato anche molto superficiale il fatto che abbia buttato lì poi senza una vera motivazione eh il rapporto saffico che c'è fra le tre amiche Giovanna e Angela e poi Ida avrebbe potuto approfondirlo anche no avrebbe potuto ometterlo eh sinceramente mi è sembrata una cosa un po' attinta da da alcuni romanzi degni di questo nome della lettura della letteratura sudamericana penso a Isabella Allende o penso eh ad Amado eh in cui si fanno dei riferimenti a una sessualità libera una sessualità che viene oppure mi viene in mente Mark Sepulveda ovviamente una sessualità che viene esplorata in tutte le forme ehm soprattutto nell'adolescenza anche in maniera incessuosa delle volte eh anche la cosa degli spiriti bravissima bravissima pensavo proprio a quello pensavo proprio a quello quindi mi è sembrata proprio una cosa scoppiazzata da lì ma semplicemente perché ti è tentato di fare un collage di tante situazioni di tanti stereotipi letterari non voglio nemmeno dire topo i letterari proprio stereotipi semplicemente sia stato tutto incollato messo insieme per fare un romanzo che debba vendere qualche certo io ho notato eh perché diciamo di social facendo parte di alcuni gruppi di libri molti ancora prima che noi lo 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 avessimo in lettura eh molti avevano evidenziato come eh in maniera molto spudorata questo libro sia stato fatto uscire a Natale cioè era proprio un'operazione economica è stata un'operazione economica insomma certo eh io vorrei sentire Pasqua Nicoletta o Antonella sul libro perché non hanno detto che non è piaciuto non è piaciuto posso dire qualcosa anche se io libro scusate scusate il non condividere anche lo schermo ma non sono presentabile no è maggio e bambini sì esatto lo sappiamo ehm allora io ho iniziato da pochissimo proprio le prime pagine della Ferrante in realtà eh mi sono divorata recentemente la quadrilogia ehm ehm non avevo letto ancora la vita bui guarda degli adulti perché alcune mie amiche mi hanno detto appunto che era un po' una ruffianata però credo che l'operazione commerciale così come avete detto non non fosse neanche troppo nascosta o velata eh proprio sia per quanto diceva Angela il fatto che comunque è una delle scrittrici italiane più vendute in eh al mondo sia per il fatto che l'uscita era stata fatta coincidere con il il Natale come ci ha ricordato ora ehm non mi ricordo il nome Laura Laura eh no l'unico punto che io faccio che in realtà è una cosa che mi piace della Ferrante rispetto a quello che hai detto tu Angela è che eh di cui avevo letto anche un articolo sulle sulla lettura di un po' di tempo fa ehm il fatto che noi ci immaginiamo il il napoletano immaginiamo che la voce degli dei protagonisti sia per l'amica geniale che ora voi mi dite pure per per la vita bugiata degli adulti ehm sia napoletano nonostante non sia scritto in napoletano cioè questa ehm viene data quasi come una stelletta di merito alla Ferrante circa la proprio la sua cifra ma sai cosa io quando ho iniziato a leggerlo ho detto parlando con altre persone anche con mia madre che la l'aveva l'aveva letto io l'avevo regalato a mia madre appunto a Natale del duemiladiciannove quando è uscito perché lei aveva appena finito di leggere la l'amica geniale e eh dicevo mi piace il fatto che sia in grado non tanto di riprodurre la cadenza quanto proprio il ritmo avevo all'inizio la percezione del ritmo nelle nelle frasi nei dialoghi però ho avuto poi la sensazione che questa cosa si sia persa mano mano che andava avanti non lo so come ho avuto la sensazione che andando avanti il libro si è stato proprio buttato lì la trama si è stata buttata lì cioè non lo so all'inizio forse mi mi incuriosiva anche ma poi ha perso anche quella capacità di piacermi per quel ritmo nella scrittura che riproduceva la cadenza o l'accento napoletano ok ok no ti ripeto io non l'ho letto però per esempio della 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 dell'amica geniale a me ehm queste pause questo ritmo che di sì che ti da ti rimbombare la testa come napoletano evitando la trascrizione del napoletano lo l'apprezzo molto nella scrittura della ferrato in generale nella scrittura degli autori ecco a meno che non sia un camilleri e quindi ti puoi permettere di scrivere in vernacolo ecco questo volevo solo dire sì io diciamo potevo volevo un po' un attimo intervenire diciamo che io a me il libro diciamo non è dispiaciuto ecco nel senso che non non lo demolisco totalmente come insomma più o meno un po' avete fatto voi ma anche io diciamo chiaramente ho il termine di paragone della quadrilogia perché avendolo letto invece diciamo io sono e avendolo amato tantissimo infatti come ho detto prima all'inizio quando stavamo un po' chiacchierando prima di cominciare cioè io per me ovviamente poi ovviamente sono opinioni però la quadrilogia dell'amica geniale tra i libri più belli che ho mai letto in tutta la mia vita e diciamo ne ho letti un bel po' quindi credo insomma di avere un per dirlo cioè lo penso sul serio quindi io poi ho letto anche altri libri di primi libri di Elena Ferrante tipo l'amore molesto gioni dell'abbandono da qui hanno tratto anche dei film non so se li avete visti io i giorni dell'abbandono l'ho visto alla sua uscita diversi anni fa non mi entusiasmo particolarmente perché insomma però vorrei leggere quel libro più che altro per capire com'era lei lei lui chiunque sia prima dell'amica geniale anche l'evoluzione un po' diciamo quindi ovviamente nella mia mente c'era un po' il come dire il modello dell'amica geniale la cosa che mi ha lasciato peggio di tutte appunto come un po' avete già detto voi è stato il finale nel senso che appunto mi sembra tagliato con l'accetta cioè io mi aspettavo proprio che dopo ci fosse come dire un seguito un qualcosa invece finisce diciamo in quella maniera con quel rapporto un po' così è come se un po' diciamo è un passaggio no brusco chiamiamolo all'età adulta in un certo senso però rimane lì che ti domandi dici vabbè quindi e poi e quindi secondo me forse questo libro impostato in questa maniera avrebbe avuto più senso forse come primo volume di una saga cioè nel senso con l'approfondimento dei personaggi magari in una in un secondo volume quindi perché effettivamente rispetto ecco per esempio l'amica geniale dove i personaggi sono molto caratterizzati molto approfonditi c'è tutta un'evoluzione dove lì si arriva insomma da quando sono bambine fino a quando sono anziane quindi chiaramente c'è un ricco approfondimento del personaggio in questo caso secondo me forse il volume scritto così avrebbe avuto senso come un primo volume di una saga perché in quel caso avremmo ci sarebbe potuto essere con lo sviluppo dei personaggi che effettivamente soprattutto alcuni sono molto molto abbozzati non si capisce bene ecco anche la funzione effettivamente come siano collocati tipo roberto e questi personaggi un po più secondari per cui quella cosa che mi ha lasciato male è stata proprio è stato il finale perché quello l'ho trovato proprio raffazzonato ecco mi ha lasciato con con la mano in bocca come dire vabbè voglio cioè vorrei sapere cosa succede dopo invece non credo che sapremo perché non mi risulta che sia in programma un seguito quindi per il resto io non è chiaro non è l'amica geni ecco l'amica geniale è superlativo questo l'ho trovato per molti aspetti un po' una su alcune cose un po' una mezza copia attualizzata ai primi anni 90 per alcune cose la dinamica familiare comunque il fatto della dell'evolutivo del protagonista che sono comunque delle ragazzine quindi questo focalizzarsi sulla comunque sui giovani ecco però da un certo punto di vista anche se è un tema trito comunque mi ha interessato il discorso di mettere a nudo comunque l'ipocrisia della famiglia borghese perché è un tema che voglio dire ci portiamo dietro da un secolo e mezzo due secoli forse però comunque non mi è dispiaciuto ecco il lo svelare ulteriormente queste dinamiche comunque molto false molto d'immagine della della famiglia borghese quindi secondo me comunque l'idea di base del libro è buona sicuramente si poteva sviluppare meglio nella dinamica tra i personaggi anche devo dire anche la la zia vittoria a me invece è piaciuta molto come personaggio anche a me perché lei secondo me è proprio quella che dimostra e svela la falsità dei rapporti umani perché sia dal punto di vista della famiglia borghese del fratello quindi che in realtà tutta questa bellezza questa coppia questo perbenismo l'essere colti istruiti in realtà nasconde appunto tradimenti falsità è tutto molto di apparenza no per da su un tono da intellettuali che però poi nella vita pratica sono tutti appunto molto bugiarli ecco però anche quella che tra virgolette la zia vittoria come dire afferma come dire afferma come verità dei dei citi più bassi diciamo anche questo è un topos che poi ritorna no nella letteratura in realtà il discorso del braccialetto secondo me è molto significativo perché anche il braccialetto stesso simboleggia che comunque anche in quell'ambiente che la zia vittoria spaccia come ambiente più autentico in realtà anche lì sono uno più bugiardo dell'altro perché l'amante no che ruba il braccialetto alla suocera morente quindi anche lì sono tutti bugiardi sia che siano altolocati sia che siano popolani alla fine quello che viene fuori è che gli adulti sono tutti dei bugiardi fondamentalmente e vogliono condizionare la vita dei piccoli diciamo dei ragazzi quindi a me diciamo ecco l'idea di base di tutta questa storia non mi è assolutamente dispiaciuta secondo me ecco si poteva sicuramente strutturare in una maniera più più approfondita questo secondo me mancato cioè ripeto se fosse stato il primo volume di una saga ok cioè avremmo avuto poi uno sviluppo così il finale proprio è la cosa che mi ha lasciato malissimo devo dire poi anche anche il linguaggio io è vero comunque sicuramente un libro ecco mainstream indubbiamente come avete detto però ecco come prima ha detto Sara io a me piace invece quella cadenza quel modo di scrivere molto che ricorda molto no la cadenza cioè non è un'accusa che mi ha dato non la ritengo un aspetto negativo questo no non è un aspetto negativo e che secondo me poteva essere fatto meglio infatti se se vedi nell'amica geniale e cioè chiaramente la Ferrante scrive in quel muro però si percepisce molto meglio sicuramente cioè ecco in tutti gli aspetti secondo me è cioè si è fatto lei io l'ho letto anche con ecco con piacere perché comunque si si falleggia molto scorrevole però ecco non mi è non posso dire che non mi sia piaciuto cioè non mi è dispiaciuto nel senso l'ho letto è una storia comunque che mi ha mi ha preso perché l'ho letto velocemente però sicuramente si poteva sviluppare meglio questo è poco ma sicuro non lo so io nelle parole di mia madre perché ricordo appunto mia madre lo ha letto e mi disse fa guarda a me è sembrato una sorta di compendio dell'amica geniale cioè hanno voluto in un romanzo condensare quelli che erano gli aspetti più caratteristici che sono più piaciuti al pubblico dell'amica geniale e farne un unico libro lei mi ha detto fa guarda a me e non è di sé a me è piaciuto però sembra un bignami dell'amica geniale è un capito è quello perché come ho detto secondo me avrebbe funzionato come altra saga diciamo a se stante in questo caso avrebbe avuto senso ma il finale è proprio così io quando ho finito il libro io pensavo che dietro le pagine di ringraziamenti le cose fosse l'ultimo capitolo e ho girato la pagina ho visto le note sull'autrice cioè tutto il fatto per cui alla fine così cioè si svila ma anche come hai detto tu anche la perdita della verginità di Giovanna sembra quasi non lo so la caricatura di quello che diciamo è il passaggio il rito di passaggio un po' di tutti noi dall'età dall'infanzia all'età adulta però descritto così ma non perché sia sgradevole non per quello perché non è quello e che sembra proprio buttato lì senza motivo sì senza motivo esatto cioè molto doveva lasciare il braccialetto da qualche parte ho capito ma lo butti in un cassonetto dell'umido e te ne sbarassi lo vendi al mercatino dell'usato lo vendi al mercatino dell'usato magari ci fai anche qualcosa di solito quella è la cosa che mi ha lasciato male proprio il finale perché e poi anche sì il discorso della caratterizzazione temporale perché sicuramente si poteva vista l'epoca che poi in realtà sono primi anni 80, primi 90 si poteva proprio soprattutto sul discorso dell'adolescenza quindi magari la musica questi ecotenti sì ma perché effettivamente non c'è allora io posso capire che sia anche un problema di diritti d'autore ma non fa un riferimento a un cantante a un film a una canzone a nulla lei dice che ascolta musica continuamente vanno al gioco lei poi a un certo punto inizia tipo Dante quando non sapeva come passare da un girone all'altro e dice caddi come sacco vuoto cade lei inizia a scrivere andammo a vedere un film ma non ricordo che film era ascoltavo una canzone ma non mi va di dirvi quale cioè se la gioca così utilizza questa sorta di espediente per non fare titoli per non fare nomi per io ripeto capisco che possa essere un problema di copyright però secondo me poteva essere risolto anche meglio potevano essere fatti degli accenni potevano fatte essere fatte delle allusioni non lo so parla di un si racconta la trama dimmi di cosa parla la canzone che stai ascoltando così io magari capisco se stai ascoltando Prince o stai ascoltando David Bowie ma così ho capito fa la differenza è certo è certo perché lei è l'alternativa ma poi un'altra cosa che sinceramente mi ha fatto molto sorridere è che allora lei viene descritta nel momento in cui allora tipico i genitori divorziano lei ha la crisi adolescenziale si ribella all'autorità genitoriale la madre è assolutamente una debole al pari di Margherita che vive nel culto poi del marito ma quello lo posso con l'umino acceso sotto quello lo posso anche capire perché può anche finire una storia d'amore e dopo un primo periodo in cui tu odi quella persona inizia di realizzarne il ricordo e vivi nel ricordo e nell'amore per quella persona è un modo anche di elaborare e io lo posso comprendere quindi dicevo Vittoria ha la crisi adolescenziale nel momento in cui i genitori divorziano inizia a vestirsi di nero inizia a trascurarsi fisicamente tranne l'igiene personale quella non la trascura però comincia a trascurarsi fisicamente inizia ad andare un po' con i ragazzi ad avere rapporti occasionali nei giardinetti cose così dice chiaramente che lei assolutamente è asociale misantropa non parla con nessuno non le interessa la scuola non le interessano i compagni di scuola poi a un certo punto scopre perché lei lo dice scoprì che nonostante il mio caratteraccio tutti volevano essermi amici mi invitavano alle feste mi invitavano ad uscire anche se io li trattavo male non potevano fare a meno di me lei viene detto per tutto il romanzo che brutta da morire e se la contendono tre ragazzi tra cui magari è una sua invenzione addirittura anche Roberto che è una cosa che davvero nella vita non sta né in cielo né in terra chiunque abbia avuto un'adolescenza e tutti l'abbiamo avuta sappiamo che se sei un cefalo se tratti male gli altri se ti isoli se non parli con nessuno vieni isolata i ragazzi non ti corteggiano non ti invitano alle feste non ti invitano a ballare e perdi la virginità a 35 anni altro che a 16 anni con il figlio del boss che ti ha visto per la prima volta e non pensa ad altro che a te ragazzi io non so chi in questi nascondi dietro il nome di Elena Ferrante che tipo di vita abbia avuto ma non ha vissuto nel mondo reale questo è poco mai sicuro dai scusate lo sfogo un po' pecoreccio ma volevo dire anche questo perché a me è sembrata davvero grottesca quella situazione secondo me se ne è accorto anche lui o lei quando lo ha scritto e a un certo punto perché non lo fa subito a un certo punto comincia a descrivere il suo seno sì te lo ricordi? sì è vero spuca all'improvviso 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 questa cia le sete grucce ma è il fatto che il maschio deficiente alla fine può essere anche un cefalo con il cuscino c'hai questo seno florido io poi mi ero immaginata dicono nel racconto dice compagni dicevano gli metti il cuscino in faccia io poi mi sono immaginata gli anni settanta dove è vero che loro erano a Napoli una grande città però comunque erano una città del sud la libertà sessuale non era la stessa di Milano o di altre città quindi una ragazzina in rivolta ormonale e in rivolta con i genitori faceva gola rispetto ad un'altra che magari era meno disponibile rispetto a lei perché ripeto siccome me la sono vista in quegli anni in quegli anni la minigonna non la potevano mettere tutte le ragazze la potevano mettere solo chi sfuggiva al controllo dei genitori dove c'era una situazione genitoriale diciamo un po' più particolare più allentata cioè almeno da quello che so io non è che ti potevi mettere scollata e con minigonna come se niente fosse dobbiamo anche ricordare che lei per quanto sia vissuta in tutte e due le 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 napoli quindi la napoli bene la napoli diciamo del vomero diciamo così e la napoli diciamo più degradata è cresciuta fino ad un certo punto in una famiglia che non frequentava la chiesa che era completamente atea questo secondo me ha inciso anche nella sua libertà diciamo ecco come diceva giustamente forse tu lo dicevi i temi ci sono ma che non vengono approfonditi capito cioè per esempio in questo c'è un piccolo collegamento quando comincia a leggere la Bibbia allora un po' magari c'è un piccolo approfondimento per il resto giustamente come diceva Antonella o ne fai un seguito perché ma io non ne sento la necessità Antonella che ha letto l'amica come si dice l'amica geniale il titolo io non l'ho letto per cui come dire per me è un pugno nello stomaco concordo con te quando hai detto non lo butterei proprio via non è che non si fa leggere si fa leggere anzi è vero anch'io ci ho messo diciamo che l'ottanta per cento del libro l'ho letto in un weekend io confesso di avere poco tempo per leggere e purtroppo per alcune situazioni arrivo la sera che vorrei leggere ma non riesco ad avere la concentrazione per cui ho tentato leggo qualche pagina non mi rimane niente allora a quel punto preferisco rimandare qualche anno fa avevo un ritmo diverso di lettura più ferrato in questo caso invece riuscivo a star dietro perché alla fine è scorrevole non è un problema però effettivamente i personaggi non sono approfonditi devo essere sincera anch'io condivido sul fatto che la zia Vittoria non sia proprio da buttare via perché è vero che all'inizio può sembrare una da rinchiudere sicuramente ma secondo me non è che siano da meno da rinchiudere la mamma e Margherita per esempio perché perché alla fine nella sua anche se è molto burbera aggressiva lunatica se guardiamo un po' più dal di fuori alla fine lei vuole il bene di tutti cioè della della sua nipotina che non della sua nipote di questa Giovanna alla fine lei non vuole non ha mire vendicative così come le avevano detto la madre il padre lei ci tiene alla sua ma secondo me non è una questione di mire vendicative secondo me lei vuole avere il controllo di tutto cioè lei vuole che avere il controllo sulla nipote il controllo sui figli di Margherita solo questo a lei non perché lei non arriva cioè non arriva a capire vuole impedire a Giuliana di andare a Milano con il fidanzato Roberto perché li vuole lì e li vuole controllare cioè se lei volesse il bene di Giuliana direbbe vai a Milano ed emancipati invece vuole lì ho capito ma parliamoci chiaro quante donne del sud mamme suocere sono state in via Vittoria sì sì però ma magari è un ruolo di madri ma Vittoria non è nulla Vittoria non è madre Vittoria non è moglie Vittoria è semplicemente una scheggia impazzita in una famiglia in cui tutti si assoggettano a lei tranne a un certo punto i figli di Margherita perché Tonino se ne va a Venezia e si perde così Corrado è debole quanto la madre resta Giuliana e a me Giuliana ha fatto una pena infinita secondo me quella è l'unica scena veramente ben descritta nel libro quando Giuliana ha l'esaurimento nervoso cioè Giuliana quando torna da Milano e si rende conto che non ha il braccialetto letteralmente impazzisce perché lei è gelosa da morire del fidanzato non solo perché teme che il fidanzato la tradisca fisicamente con Michela o con le altre donne di Milano ma perché sa di non essere all'altezza del fidanzato perché non è culturalmente a suo livello e socialmente a suo livello e questa cosa la logora dentro ed è logorata d'amore per lui per cui spiega anche a Giovanna perché Giovanna sta facendo il liceo classico esatto e quindi Giovanna è una sorta di scala sulla quale lei si può arrampicare per arrivare al livello del fidanzato per quanto Roberto la ami e sappiamo che tiene a lei profondamente per quanto poi Roberto faccia tutto quel discorso sul diritto che va col Pascone Giovanna che ritiene di non andare oltre fosse stato per Roberto no? vabbè vabbè però non ha più in carità ma me la tengo non la dico vai vai Lucrezia dilla non è passato l'attimo diciamo che Roberto anzi Giovanna avesse accennato qualcosa non si sarebbe tirato indietro di sicuro perché si capisce proprio dalla ma anche perché diciamo il suo rapporto con Giuliana è un po' strano e appunto come quando dice quella cosa del debito con il Pasquone del fatto che siccome lui viene da lì in qualche modo deve restare legato a quelle radici quindi è disposto a prendere una moglie che viene da lì perché sì tutto sommato le vuole bene a Giuliana però è una sorta di dare anche a qualcun altro la possibilità di emanciparsi da quella zona di in qualche modo ed è abbastanza come posso dire è stata forse una di quelle cose che mi ha fatto un po' cadere Roberto dalla stima che potevo magari se Roberto è anche lui bugiardo in questo perché lui va in chiesa a fare i sermoni parla di filosofia però alla fine non è un personaggio così elevato quindi anche lui che sembra così il cavaliere dalla splendente armatura agli occhi di Giovanna in realtà non è così puro infatti a me l'unico positivo secondo me o comunque che cerca con le sue forze in qualche modo è Giuliana l'unico personaggio che in qualche modo è forse il più sincero di tutti in qualche maniera a differenza degli altri che sono dei bei personaggi si Giuliana fa pena quando viene l'esaurimento poverina perché lei è veramente logorata dalla gelosia è terrorizzata da Vittoria cioè io mi sono tanto compenetrata in lei in quel momento quando inizia a perdere i capelli mi ha fatto una grande pena per me non è scritta nel libro si 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 è una cosa molto molto triste soprattutto chi ha intorno non se ne accorge quindi diciamo pensano più che altro a quella il fatto che debba mantenere questa fantomatica verginità perché non gliela deve dare Roberto altrimenti non se la sposa più e invece quello è l'unico modo che secondo lì ha per tenerselo Roberto altrimenti le volle stesse erano già con Michela ma proprio non si capisce quindi diciamo vive veramente questi commenti aspetta Laura non ci sentiamo più anche se se non ricordo male comunque in quella cena dove c'è anche Giovanna e c'è Michela la collega pare che Michela fosse un cefalo anche lei eh o ricordo male ma no in realtà la descrive con gli occhiali non ricordo no in realtà non la descrive molto fisicamente quando Giovanna la vede dice questa è Michela e tu ti stai preoccupando di Michela che alla fine è veramente insomma non vabbè ma diciamo vi posso dire per esperienza fisica che gli uomini non stanno a guardare la velenza eh brava ma lo stavamo dicendo stiamo ricordatemi che stiamo registrando e che questo non è una conversazione tra amiche che questo video andrà online ma no ti prego non posso non posso vabbè diciamo che vabbè la paura di Giuliana è che comunque possa Michela ha la capacità intellettuale di capire quello che scrive Roberto e lui dice e c'è quella parte che dice Roberto non mi fa leggere quello che scrive ma Michela lo legge e questa è la cosa che la fa sentire in difetto in particolare e questa è una cosa triste perché poi alla fine ecco perché Roberto poi pian piano mi scadeva più lo conoscevo perché non ha fatto quasi niente per rivolgere Giuliana nelle sue cose cioè vive un po' i margini Giuliana c'era lì come c'hai il cagnolino che è adottato dalla strada e questo diciamo è un po' brutto per cui diciamo questa ammirazione di Giovanna nei confronti di questo io mi chiedevo sempre sì per quale motivo cioè qual è la cosa che dici però guarda che personaggio che uomo vabbè sì è come avete detto prima è un po' che lei rivede comunque il padre quello è un'infatuazione di questo tipo io vorrei sentire Pasqua e Nicoletta perché noi stiamo proprio lasciando andare ma Pasqua e Nicoletta non hanno ancora detto nulla sì ecco volevo dire questo cioè io ho letto l'amica geniale e ho letto questo libro subito dopo infatti non è che me lo ricordo benissimo e ho anche io l'impressione penso l'abbia detto Antonella che questo libro poteva essere stato scritto prima dell'amica geniale mi sembra una bozza cioè i personaggi io li vedo molto simili cioè come ambientazione c'è il gruppo degli intellettuali per chi ha letto l'amica geniale lo sa c'è il personaggio Nino il padre di Nino e poi tutto il mondo del marito della protagonista che è un modo di intellettuali intellettuali di sinistra che discutono fanno rivoluzioni ci sono molti personaggi di questo tipo e anche in questa storia ci sono cioè il padre Adrian e Mariano che accenna diverse volte senza approfondire a queste discussioni che hanno in casa ad alta voce eccetera parlano di marxismo di fine della storia più o meno questi sono gli argomenti quindi l'ambientazione mi sembra quella di un gruppo di intellettuali le figlie diciamo sono state educate in quella maniera infatti non vanno non hanno alcun rapporto con la religione non sono state battezzate e poi c'è l'ambiente invece quello del volgo diciamo quello più popolare che mi ricorda le prime la prima parte dell'amica geniale la descrizione di Napoli proprio nei suoi aspetti più brutti cioè i personaggi i genitori di Ilia sono personaggi molto squadri di molto aderenti a una vita molto elementare e quindi anche lì mi ritrovo un po' quell'ambiente in bozza ecco perché secondo me questo è stato scritto prima dell'amica geniale e l'amica geniale poi ha sviluppato benissimo questi argomenti Antonella mi pare molto entusiasta anche lei dell'amica geniale e in effetti i personaggi sono delineati bene e anche Vittoria mi ricorda molto sempre ma più di abbozzo mi ricorda molto come si chiamava Lina cioè perché anche Lina dell'amica geniale era una pazza cioè aveva era molto intelligente ma ha fatto delle cose incredibili adesso non so appunto chi altro di voi ha letto quelle storie ma ha delle ascese delle discese incredibili questa Lina e un po' assomiglia a Vittoria quindi ho rivisto queste tematiche e quindi non è stato bello come l'amica geniale senz'altro non è stato bello però ecco l'ho collegato molto e poi l'ambientazione io direi insomma dai discorsi che facevano i genitori il tipo di educazione le discussioni che avevano Mariano appunto e Andrea credo sia ambientato negli anni 70 dove si parlava molto di queste cose dove era di moda in un certo mondo intellettuale diciamo non credere nella religione interessarsi molto alla politica no ma credo che parli io ricordo che nomina esattamente gli anni 80 non ricordo verso l'inizio del libro parla proprio di anni 80 adesso io non lo so come è però il momento è quello è quello diciamo post-santottino diciamo molto degli anni 70 quello era il tipo di educazione che un certo gruppo di intellettuali dava ai propri figli in contrasto poi invece con un mondo molto che viveva in maniera molto più elementare cioè la storia di Vittoria e Margherita dell'amante che sta con la famiglia a me ricorda certe storie molto antiche dove queste cose in una certa fascia sociale erano vere cioè c'era questa strana avvicinanza fra l'amante ecco scusate Wikipedia dice primi anni 90 quindi fine 80 inizio 90 io ricordo che nel libro parla di anni 80 comunque vabbè diciamo non so però ecco le cose che hanno raccontato mi hanno ricordato un po' quegli anni e poi insomma la storia della ragazza di Giovanna insomma alla fine si voi dite banale però insomma è la storia di una ragazza che è stata abituata in un certo modo ha idealizzato i genitori e poi vede quelle squallide storie perché lei si accorge prima della storia fra Mariano e la madre pensa che sia quella la storia poi si accorge perché vi ricordate la vede vede quando leva per terra vede che Mariano ha fra le sue gambe la caviglia di Nella della mamma di Giovanna quindi lì comincia tutta la storia poi scopre che suo padre aveva una storia da 15 anni quindi prima che lei nascesse con costanza un crollare del suo mondo li crollano tutti gli ideali e quindi è chiaro che ha tutte quelle reazioni però lei secondo me nonostante quelle reazioni nonostante il fatto di essere di vestirsi da punk tutte queste storie qui nonostante di fare nonostante quelle scene di degradazione morale perché insomma i primi rapporti sessuali lei vi ricordate li descrive con un certo schifo i primi rapporti con Corrado lei li fa ma li fa proprio per diciamo reazione in realtà parla proprio di schifo gli dice proprio così ha odore di latrina e quindi gli fa schifo ecco è solo una reazione la sua la reazione a tutto il mondo intellettuale di cui si è nutrita fino ad allora e poi secondo me il fatto di poi adorare Roberto è proprio perché in realtà lei alla fine anche se ha reagito in quella maniera si è fatta pure bocciare ha odiato diciamo la scuola in realtà lei rimane un intellettuale una ragazza molto intelligente una ragazza che si è letta tutti i Vangeli no? ricordate il padre gli ha regalato i Vangeli quelli col commento e quelli pure in lingua originale e lei si è li ha letti infatti alla fine prende nove in greco non dimentichiamolo viene promossa e prende nove in greco lei essenzialmente è un intellettuale perché è nata in una famiglia di intellettuali e poi però ha avuto quel momento di diciamo di rivoluzione è ovvio quando tu vedi i tuoi che crollano in quella maniera tutte quelle storie i genitori ecco io l'ho vista così quindi non mi è piaciuto come l'amica geniale però penso che contenga sia la bozza di quel libro secondo me l'ha scritto prima adesso questa è solo una mia idea ovviamente sono d'accordo sì sì assolutamente sono assolutamente d'accordo con questa tua analisi Pasqua ma puoi trappi io ho letto il libro vabbè non so definire se mi sia piaciuto o no è scritto è scritto bene scorre non ha nessuna pretesa letteraria ma te ne accorgi già dalle prime pagine sai che è quello il livello a cui è scritto e a cui tiene il lettore sinceramente da metà libro ho cominciato a chiedermi se poteva essere scritto in meno pagine con meno parole perché secondo me c'è almeno un terzo del libro che poteva essere evitato di essere scritto o poteva essere scritto portando più la storia in profondità mette tante robe mette tanta roba ma non approfondisce quello che ho apprezzato è proprio il la protagonista che invece è molto profonda io l'ho vissuta come una ragazza che si fa delle domande importanti sulla vita e non ha risposte dal mondo degli adulti le trova leggendo le legge tantissimo io non conosco tanti adolescenti che leggono così tanto e legge delle cose più variegate cose pesanti legge a un certo punto dice esatto a un certo punto dice che sta leggendo Proust sì legge legge roba veramente notevole mi è piaciuto diciamo lei è un adolescente che attraversa un momento che si fa molte domande ma lei cerca nei libri perché gli adulti non li sanno rispondere gli adulti sono molto centrati su se stessi sono molto centrati su se stessi ho apprezzato il livello di ragionamento che Giovanna articola nel libro quello è l'unica cosa profonda che c'è nel libro perché tutto il resto è molto superficiale è accennato è abbozzato è accennato i protagonisti per esempio per me potrebbero fare proprio a meno di Roberto di un po' di loro perché li ha liquidati subito anche Vittoria che a me è piaciuto tantissimo un personaggio che a me è piaciuto per me è una maschera napoletana Vittoria l'ho definita così mi piace perché è come dice immagini di vivere come dire evoca un certo spaccato sociale napoletano lo evoca subito e poi mi piace che nell'irruenza nell'aggressività dice delle cose sagge e lei è l'unica che dice alla ragazza quando la ragazza lepoli delle domande paradossalmente alla persona più ignorante del romanzo pone delle domande la nipote e lei gli risponde in maniera molto secca per esempio quando gli dice apri gli occhi guarda oltre guarda oltre guarda oltre guarda oltre e la ragazza li da retta e scopre come dire l'approccio tra Mariano e la mamma a me è piaciuto a me è piaciuto il personaggio di Vittoria però mi è dispiaciuto quando a un certo punto l'ha liquidata a un certo punto l'ha rilegata poteva sviluppare molto il rapporto tra a me sarebbe piaciuto che avesse sviluppato il rapporto tra nipote e zia tra una nipote che appartiene ormai a un mondo diverso e una zia come dire da da maestrare da educare da da istruire e sono i due i due mondi contrapposti mi sarebbe piaciuto che nel nel romanzo avessero dialogato di più poi mi ha fatto un po come dire amarezza il ruolo della donna in questo romanzo cioè le donne sono uguali e che sono ricche e che sono povere cioè o che stanno al bomero o che stanno nel quartiere popolare perché subiscono sempre la presenza dell'uomo cioè la mamma di Giovanna che è una persona accolta un insegnante è un editor è borghese però subisce il rapporto del marito subisce perché viene lasciata dal marito ma al di là del fatto che viene lasciata lo subisce nella nei tempi lei sta ai tempi del marito al al coinvolgimento politico del marito è lei che segue il marito è lei che segue che adotta gli stessi come dire gli stessi gusti o gli stessi orientamenti fa un quattraino del marito sì sì vive sulla scia del marito ma anche Costanza Costanza è la donna che si conquista gli toglie il marito a un'altra donna è la donna ricca e potente ma subisce anche gli umori del nuovo compagno cioè è molto preoccupata cerca di agganciare Giovanna perché è preoccupata che magari lui c'è non c'è nella convivenza e questo è ho visto molto molte similitudini tra la mamma di Giovanna Costanza e e Margherita e Vittoria cioè e Margherita soprattutto bravo per questo io scusami se ti trovo per questo io penso ho finito sia ambientata negli anni 70 dove ancora il ruolo della donna era quello cioè è un ruolo della donna è strano perché per essere ambientato alla fine degli anni 80 primi degli anni 90 e vedere delle donne così sottomesse è strano per questo io continuo a dire che forse è ambientato prima storicamente prima è strano perché siamo nel 2021 ma io ne conosco di persone così però tre donne in un romanzo tutte uguali tutte così tutte sottomesse alle volte le persone che si frequentano si somigliano si somigliano quindi perché fanno parte tutte di quel come dire si creano quelle dinamiche soprattutto tra i gruppi chiusi capito elitari alla fine le dinamiche comunque sono sono molto simili cioè sono tipo clan usiamo il termine diciamo non in senso come dire malavitoso però come dinamica la dinamica poi è quella quindi secondo me non è così strano che la cioè da donna anche negli anni primi anni 90 come oggi ci siano donne che pur essendo istruite pur essendo diciamo di alto alto cito sociale in realtà poi siano comunque sottomesse mentalmente cioè perché comunque sono retaggi culturali durissimi a morire voglio dire lo vediamo quotidianamente senza che ci addentriamo diciamo nella politica nelle cose ma voglio dire lo vediamo quotidianamente a tutti i livelli sul mondo nel mondo del lavoro quindi secondo me non è così insolito anzi per assurdo in certe in certe come posso dire in certe dinamiche i ceti popolari che vengono considerati forse più ignoranti sono anche più avanti da questo punto di vista secondo me perché nel nel ceti borghesi alti c'è molta ipocrisia cioè si vuol far credere di essere progressisti ma in realtà ci si è molto più conservatori mentre nei ceti popolari le dinamiche sociali sono molto più fluide per assurdo cioè ci sono anche la la famiglia matriarcale molto più più sviluppata per esempio cioè sono dinamiche sociali molto complesse secondo me non è così insolito così come il discorso del marxismo che è la fine della storia comunque alla fine in quel periodo comunque cadeva l'unione sovietica cioè c'era un dibattito anche su questi temi secondo me è molto plausibile la collocazione temporale cioè io dico nel 2021 penso che tra le nostre amicizie e conoscenze ne conosciamo di donne caspita e magari anche per conservare le apparenze proprio caspita voglio dire ma penso tra le amici anche delle famiglie cioè voglio dire le famiglie di ciascuno quindi secondo me non dobbiamo pensare io penso guardate cioè stiamo insulando diciamo un po' dal romanzo però io per esempio ma nel club del libro non si insula mai perché quando un romanzo ci fa parlare di altro lo sappiamo da dieci anni significa che ha fatto il suo ma secondo me ad esempio oggi noi in generale anche la società non parlo solo dell'Italia in generale è più conservatrice di 20-30 anni fa anche la televisione cioè se voi vi vedete i programmi che andavano nella RAI negli anni 70-80 cioè era roba di avanguardia avanti oggi cioè se tu vedi una tetta è scandalo cioè si è molto più anche sul linguaggio è molto più big oggi invece di essere più emancipati anche per la tv che comunque è il principale veicolo diciamo culturale che comunque della maggior parte delle persone è molto più conservatrice rispetto a 20-30 anni fa quindi secondo me non ci dobbiamo stupire assolutamente cioè non dobbiamo credere che oggi siamo più emancipati perché secondo me non è per niente così no che non siamo emancipati no che c'è una regressione è assolutamente vero è tangibile sotto ogni aspetto della società ma questo 2020 che è passato ha messo in evidenza quanto molte conquiste siano state effimere in realtà finora anche guardando i dati di quante donne durante a causa del lockdown della pandemia hanno perso il lavoro a differenza degli uomini è indicativo cioè significa ha dimostrato che la donna si lavora ma è quasi una concessione non è una conquista consolidata è qualcosa che non è ancora entrato all'interno della cultura di questa società ed è terrificante è stato veramente un segnale difficile su questo diciamo è un tema su quale bisogna anche ripartire l'unica cosa che non mi piaceva è che per Andrea sostituire Nella con Costanza è stato praticamente semplicemente come cambiare casa perché lei poi a un certo punto descrive Giovanna che anche a casa Posillipo ha il suo studio le sue cose quindi le sue abitudini sono praticamente rimaste immutate ma semplicemente traslocato i personaggi sono talmente piatti e appiattiti che tu la differenza tra Nella e Costanza non la percepisci cioè io non capisco perché lui abbia preferito cioè potrei guarda potrei anche capire Enzo nel momento in cui ha deciso di iniziare la relazione con Vittoria e tradire la moglie con Vittoria perché Margherita si chiama Margherita sì Margherita magari era una donna più pudica cattolica più dedita alla famiglia mentre Vittoria era una donna carnale era una donna che gli faceva delle concessioni a letto evidentemente quindi io quello lo posso capire ma sinceramente Mariano che passa da Nella a Costanza sembra quasi che abbia deciso di andare a vivere in una casa più grande con una donna magari vestita in maniera più elegante ma io le differenze tra le due non le ho viste non le ho viste il rapporto di coppia non viene visto come rapporto tra due persone con una identità ma semplicemente come una formalità sociale cioè è quello cioè come sono interscambiabili appunto perché bisogna comunque mantenere l'apparenza della famiglia borghese quindi di un certo livello eccetera però di fatto cioè io penso che soprattutto il padre di Giovanna Andrea sia molto sia esclusivamente concentrato su se stesso quindi di fatto a lui che sia la moglie sia Nella o sia un'altra cioè l'importante è che rientri in quei canoni diciamo di perbenismo spendibile quindi istruita piacevole ma solo non solo l'importante è che lui o con l'una o con l'altra continui a fare la vita che lui vuole quello che gli interessa esatto i suoi spazi i suoi spazi quelli che sono i suoi interessi Angela cioè è un trasferimento ma lui il suo interesse in maniera egoista è che deve farsi i fatti suoi cioè deve avere lo studio la tranquillità non è una persona che si spreca né per l'una né per l'altra cioè quando dà il bracciale a Costanza non è che lo dà per amore di Costanza lo dà perché lo deve sottrarre alla sua famiglia che odia perché lui odia se stesso attraverso la sua famiglia cioè lui non è orgoglioso delle sue origini lui le vuole nascondere le vuole sotterrare le vuole soffocare le sue origini e quando vengono fuori perché per certi versi la descrizione che fa Vittoria del padre poi ad un certo punto viene fuori che forse Vittoria non ha poi il porto nella descrizione così cattiva del padre lui l'importante è che si fa i fatti suoi in realtà il bracciale lo dà perché deve sottrarlo a chi deve sottrarlo e lo dà Costanza perché semplicemente nel tempo cioè viene prima della moglie quindi non è che lui dà il bracciale per un gesto d'amore come simbolo non ne frega niente cioè per lui invece è il simbolo della vittoria verso la sua famiglia che odia poi famiglia con la quale alla fine si ria pacifica perché lui senza motivo si ria pacifica con Vittoria perché Vittoria va a fare la badante da un'amica di Costanza e si ria pacificano cioè vent'anni venticinque anni di odio puro questa però è una cosa molto realistica attenzione perché questa è una cosa che succede spesso cioè io negli anni 80 me le ricordo bene le cose 70-80 me le ricordo le cose però stiamo anche parlando magari nella vita può succedere però in un romanzo dai un minimo di pepe in più dai un minimo di spessore in più cioè se c'è questo odio che è trasversale per vent'anni trent'anni o lo approfondisci o fai finire così il libro è così ma è su tutti i fronti così fermo che sia stata anche piacevole non è che voglio dire non è il più brutto il libro più brutto che io abbia mai legto si legge però ecco non mi ricordo forse Antonella diceva Nicoletta non ricordo diceva sempre io ho detto la 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 geniale non l'ho letto per cui non posso fare confronti però prima o Antonello Nicoletta dicevano che sembra un romanzo scritto prima si Nicoletta la stava la geniale come se fosse un capitolato un canovaccio no? io ovviamente questa cosa non l'ho potuta considerare perché non ho il termine di paragone se la si vede in questa situazione in questo quadro allora il romanzo ha anche il suo perché sì secondo me ovviamente non lo sappiamo però è un'ipotesi assolutamente plausibile perché le dinamiche le ambientazioni sono sono molto simili molto simili sono proprio embrionali rispetto all'amica geniale dove ovviamente c'è tutto un un ultra approfondimento ma poi vorrei capire nell'amica geniale le figure maschili sono tutte dipinte in maniera così pessima nel senso allora io l'ho notato soprattutto per quanto riguarda la la famiglia del pascone per capirci no? per quanto riguarda Vittoria Margherita loro hanno chiaramente l'ossessione della virginità perché ne conosciamo i retaggi sociali ne conosciamo i retaggi storici non dobbiamo stare qui a parlarne e religiosti ovviamente e non fanno poi che dire che gli uomini sono tutti così vogliono sono tutti così e su queste siamo tutte d'accordo ma è ossessiva la cosa cioè davvero non c'è una figura maschile che esca fuori in maniera positiva io vorrei capire diciamo capita questa cosa ma nell'amica oddio forse magari Tonino è un attimo perché Tonino a un certo punto decide di defilarsi perché poi tra l'altro Tonino ha questo momento al cinema Tonino sembra una figura passiva una meba umana a un certo punto al cinema impazzisce picchi ai ragazzi da un ceffone ad Angela che se lo meritava secondo me Angela dal prima dalla prima pagina si meritava di essere presa a ceffoni io non sono contro la violenza ci mancherebbe Gandhi tutto quello che volete però Angela si meritava un ceffone e perché c'è a un certo punto Giuliana che dice una una cosa interessante quando decide di uscire con Roberto e Giovanna e Giovanna gli dice vorrebbe venire anche Angela Giuliana gli dice però Angela vuole stare sempre in mezzo che è vero perché è una un po' con le mani di protagonismo vuole mettersi in mostra e vabbè tornando a Tonino Tonino a un certo punto al cinema impazzisce e c'è Giuliana si Giuliana che dice eh ogni tanto cioè dice qualcosa tipo ogni tanto lo fa allora a quel punto io dico vai c'è un plot twist adesso scopriamo un nuovo Tonino cos'altro ci starà nascondendo questo romanzo quale altra bugia chi è Tonino in realtà dottor Giacchile Misterite non lo sappiamo non sappiamo di altri episodi di questo tipo non viene detto nulla Tonino sembra preso da un raptus di non so come se fosse stato morso da un cane con la rabbia prende e parte e va a Venezia perché pure lui diciamo è esasperato da tutta la dinamica familiare e quindi diciamo Tonino un minimo si affra diciamo che una figura tra virgoli maschile è un po' più positiva delle altre certo non è bello che prenda a paccheri la gente però avrei gradito anche un approfondimento anche a me se uno mi picchiasse dietro la sedia del cinema mentre sto vedendo un film forse lo piccherei io non sono arrivata alle mani non sono arrivata alle mani ma sono arrivata alle male parole nel cinema a un certo punto io ho smesso di frequentare le multisala per quello perché non ce la facevo più diciamo le gomitate dietro la seggio gente che parla questo è un altro discorso per carità per carità l'amica geniale allora vorrei capire se anche la maggior parte dei protagonisti uomini sono comunque negativi tranne però la maggior parte sì vabbè c'è il fascista c'è il terrorista ci sono tanti a diversi livelli e per diversi ma la maggior parte sì sono e poi Nino il protagonista a sua mia motto ad Andrea cioè io mentre leggevo ti giuro veramente a parte che io poi me li immaginavo tutti i personaggi effettivamente poi quando hanno fatto la serie ho ritrovato quello che era la mia immaginazione negli attori nei lineamenti cioè veramente volevo ucciderlo perché proprio Nino che è appunto uno dei protagonisti principali che è proprio veramente veramente un pezzo di merda cioè non so come Alfoni c'è tra lui e il padre perché c'è anche il padre se non so chi dei due è peggio quindi in realtà sì è un po' una costante della ferrante questo allora ragazzi la conversazione è bellissima però sono le otto e dodici io credo che la nostra finestra temporale si ferma sì Lucrezia sì la nostra finestra temporale credo si chiuderà in automatico come lo Stargate alle otto e mezza quindi non vorrei diciamo che a un certo punto poi venissimo così segate da zoom aspetta vai vai Laura solo un particolare non so se l'avete notato anche voi nello stile della scrittura o comunque adesso non so se è una cosa che appartiene alla Ferranto o è tipica di questo romanzo spesso e volentieri non so se l'avete notato dice una cosa e poi come dire esprime il pensiero perché ovviamente il romanzo è in prima persona cioè l'adolescente che parla esprime un concetto e poi esprime l'esatto contrario cioè volevo che succedesse questo oppure forse nella mia mente volevo non succedesse cioè è un continuo è un continuo se l'avete notato anche voi sì sì perché volevo peccato alcune le ho sottolineate altre no volevo e poi no perché forse invece la mia coscienza invece non voleva che succedesse e questa cosa è un po' della serie la seconda volta posso pure capire la seconda volta metti in discussione ti esorta a pensare però quando lo fa continuamente tu almeno io ho avuto un po' di sbandamento cioè della serie ma cosa vuoi dire cioè vuoi vuoi dire a o vuoi dire l'esatto contrario sì secondo me per dimostrarci l'indecisione dell'adolescente che non è ancora formata non è ancora un essere umano formato e compiuto ha usato questi espedienti ripeto è un libro pieno francamente di espedienti abbastanza rozzi non so non so vabbè era giusto il mio pensiero allora ragazzi io vi faccio l'elenco di quelle che sono le proposte vedo già stasera di di creare il il sondaggio e poi domani mattina lo lo linko lo spammo lo mando anche via mail allora abbiamo il sentiero delle babucce gialle la vita gioca con me di grossman hamburg di marco lupo febbre di jonathan bazzi chiedi alla polvere di fante che l'ho proposto io siddarta di armanes di lucrezia che so che lo stai leggendo in questo periodo ricordo bene sì sì e cambiare l'acqua ai fiori di valeri per di che l'ha proposto pasqua giusto ok sì quindi queste sono le proposte vabbè ormai lo sapete perché avete già tutte partecipato al club anzi oggi abbiamo avuto dei ritorni che sono antonella e pasqua che non non avevamo da un bel po' di tempo ma che sono tra le storie è stato quello su sostiene pereira quindi un anno fa sostiene pereira ah ricordavo anche prima io sinceramente no 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 era il Sanremo dell'anno scuola team Achille Lauro è vero c'era la serata di Sanremo è stato l'ultimo club e poi siamo entrati in pandemia è vero io quest'anno se potessi tutto il 2000 da aprile in poi lo cancellerei sinceramente mentre quando ci fu la discussione su cecità ci fu la lotteria cioè mettemmo i libri incartati sì perché fu periodo di Natale quello che fu 2019 dicembre dicembre 2019 quest'anno vabbè purtroppo non l'abbiamo potuto fare io tendenzialmente quando ci sono stati gli ultimi online purtroppo non sono riuscita a leggerli i libri quindi alla fine a me dice mi scoccia a partecipare se non ho letto perché ma sai quante volte non riesco io a finirli però io ho sempre letti perché altrimenti mi perdo la dicione non capisco cosa parla e quindi sì sì no ma infatti io sinceramente questo perché anch'io ho letto veramente la metà del libro nel giro di un weekend poi il primo weekend in cui ho iniziato a leggerlo poi è iniziata la settimana lavorativa tra l'altro straordinario altro arrivavo come diceva Laura la sera che non ero in grado proprio mentalmente di mettermi a leggere e quindi mi ero detta vabbè cerco di leggerlo domenica scorsa poi domenica la giornata è un po' andata a gambe all'aria perché perché dovesse una giornata libera ma tutto è stato fuori che una giornata libera quindi mi sono ridotta alla fine stamattina prima di andare al lavoro a leggere le ultime cento pagine così no 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 vabbè io pure un paio di giorni ho messo ma non peraltro perché sapevo che è un tipo di scrittura che si comunque legge io sono una che legge molto lentamente ma in effetti questo va via con niente quindi no ma da tanto che volevo mi mancava volevo ripartecipare sono infatti questa volta mi sono organizzata proprio per esserci perché poi io vi ricordo che noi ci siamo di nuovo il 3 marzo con Teste fra le nuvole che è il club del fumetto e lo faremo su un Gekiga bellissimo che è l'uomo senza talento di Zuge e avremo come ospite Vincenzo Filosa che è stato il suo traduttore per Canicola Vincenzo Filosa è un fumettista a sua volta ma è un bravissimo fumettista calabrese ma è anche traduttore per Canicola e cura la collana Gekiga di Canicola i Gekiga per chi non lo sapesse sono i manga Lucrezia lo saprà meglio di me sono diciamo i manga di spessore ve la dico in una maniera proprio una descrizione molto molto brutta quelli un po' più introspettivi molto spesso noi tendiamo a pensare al manga come Lady Oscar le fatine le cose no il Gekiga sono quelli drammatici di un certo senso come può essere Gendi Roshima oppure insomma che raccontano storie abbastanza drammatiche complesse a livello proprio psicologico diciamola così belli mazzate ma sono spettacolare l'uomo senza talenti è un capolavoro dopo tutto e poi suggerisci la lettura io sì assolutamente l'uomo senza talenti è un capolavoro è bellissimo è veramente bellissimo io mi sto approcciando a questo genere dei fumetti dei graphic novel quindi sono in cerca di autori lo facciamo sempre su zoom quindi o l'hai letto o non l'hai letto io ti consiglio di partecipare perché poi alla fine lo sai sono molto inclusive e poi vabbè noi ci rivedremo sicuramente siamo a febbraio ad aprile e mio Dio non si scoprò dal vivo boh speriamo non credo io ho pochi dubbi secondo me ce ne andremo ancora fino alla fine dell'anno fino a dopo l'estate questa sensazione almeno l'estate sì secondo me magari dopo l'estate potrà riprendere settembre ottobre potrà riprendere un po' potremo riprendere quel tipo di attività ma ho la sensazione che prima non sarà possibile probabilmente riapriranno prima le discoteche però sono in discoteca sono in discoteca non ci tengo non ci tengo allora ragazze io vi ringrazio infinitamente grazie grazie è stato bello ritornare è stato sempre bello molto e le partecipanti un saluto veramente a voi tutte un abbraccio virtuale a tutte quante e domani mattina vi mando il link per votare buona sera ciao 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 ciao